Carissimi ascoltatori, buonasera, ci troviamo alla Croce Blu, alla collina dell'apparizione di Međugorje e con gioia vogliamo pregare questo rosario insieme a voi. Vogliamo in questo momento, prima di iniziare, chiedere proprio il dono dello Spirito Santo, che è amore, che è comunione, che ci fa sperimentare e ci rivela tutti i misteri di Dio. Lo invochiamo in questo momento per tutti noi, perché possiamo entrare nella preghiera del cuore, nella preghiera profonda, insieme al mio fratellino Vincenzo, Don Vincenzo, che sta con noi in Orizzonti, Anna, che è una nostra amica sorella che sta qui a Međugorje da tanto tempo, Obed, Sor Chiara e Laura, che sono delle persone che vivono anche loro qui a Međugorje. Santo Spirito, sono di su di noi, e in Santo Spirito, riempici di Te. Santo Spirito, riempici di Te, carezza di Dio. Santo Spirito, riempici di Te, carezza di Dio. Santo Spirito, riempici di Te. Nei sogni, penso c'è di aperti, per incontrare Te. Tu sei l'amore immenso, il paradiso adesso Gioia senza fine, si spiora le colline Per incontrare te Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da Maria Vergine patì sotto Ponzio Pilato fu crocifisso, morì e fu sepolto discesa agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo siede alla destra di Dio Padre Onnipotente di là verrà a giudicare i vivi e i morti credo nello Spirito Santo la Santa Chiesa Cattolica la comunione dei Santi la remissione dei peccati la risurrezione della carne la vita eterna ame Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ame Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli ame adesso prima di iniziare i nostri misteri del Rosario ecco vogliamo ciascuno di noi può fare una preghiera un'intenzione particolare che sente ecco in questo momento vogliamo pregarti Signore Gesù per le intenzioni di Maria per la salvezza delle anime vogliamo pregarti per tutte le persone che sono sofferenti nella malattia nella persecuzione nel dolore e vogliamo pregarti in particolare per la pace nel mondo perché la pace possa regnare nei cuori delle persone in particolare in particolare ti affidiamo i bambini che soffrono e ti affidiamo ecco i capi delle nazioni da loro può dipendere la vita o la morte delle persone perché siano sempre guidati e ispirati dall'amore di Dio dalla presenza di Maria nel cuore prego l'anima di Don Mimmo Massaro un sacerdote bravissimo della nostra Dioce sì che è morto in questi giorni ecco ti preghiamo per la sua anima per tutti i sacerdoti adesso ci prendiamo un momentino di silenzio e ciascuno preghi nel suo cuore affidi a Maria e a Gesù le proprie intenzioni e noi pregheremo per queste intenzioni da Meggiugorie primo mistero della gioia si contempla l'annuncio dell'angelo a Maria l'angelo entrando da lei disse rallegrati piena di grazia il Signore è con te ed ecco concepirai un figlio lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ame ave Maria ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame tu sei benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei la benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei la benedetta tra le donne benedetti il frutto del tuo seno Gesù santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli ame Gesù perdona le nostre colpe preservoci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia Maria prega per noi e per il mondo intero ave Maria ave ave Maria ave Nel secondo mistero della gioia si contempla la visita a Santa Elisabetta. Maria si alzò in fretta di buon mattino e andò a trovare Elisabetta. E appena la incontra Elisabetta esclama di gioia e la saluta «A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Ed ella subito rispose «L'anima mia magnifica il Signore». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia, prega per noi e per il mondo intero. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di Gesù a Betlemme. Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Ecco, chiediamo a Gesù la grazia, in questo momento a Maria, di accogliere Gesù bambino nel nostro cuore, nella nostra vita, e credere che Lui veramente è la nostra salvezza. Lui in questo momento può donarci la pace, la gioia, l'amore, la consolazione. Ecco, adoriamolo, accogliamolo con profondità, con costanza nel nostro quotidiano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, orai sempre, nei secoli dei secoli. Amén. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre, Regina della pace e delle famiglie, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Simeone, mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, lo accolse tra le braccia e lo benedisse, dicendo, ora lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E riferendosi a Maria, disse, e a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco, stiamo contemplando i misteri della gioia, allora vogliamo chiedere proprio la grazia. Per stare nella pienezza della gioia bisogna amare e scendere negli inferi, come ha fatto Gesù, accogliere la croce, le sofferenze e consegnarle al Padre, con quella preghiera bellissima che Lui ha fatto sulla croce. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Allora, in questo momento vogliamo affidare tutte le nostre croci, tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre fatiche, tutte le nostre paure, le preoccupazioni del futuro, ogni cosa, perché sia trasfigurato nella gloria. Il Signore ha vinto tutto e anche oggi possiamo stare nella pace e nella gioia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci ingiura in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatore, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatore, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatore, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatore, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatore, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatore, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatore, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatore, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatore, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatore, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, a tua misericordia. Maria, regina della pace e delle famiglie, prega per noi e per il mondo intero. Ave Maria, grazia plena, dominus et tu, benevicta tu. Nel quinto mistero della gioia si contempla la perdita e il ritrovamento di Gesù al Tempio. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Ecco, anche noi a volte ci capita di perdere Gesù e oggi Gesù ce lo ridice, ci dice che se noi stiamo con Lui e ci occupiamo delle cose del Padre suo, lo incontriamo e quindi chiediamo la grazia di compiere le cose del Padre suo, quindi vivere in questa comunione d'amore costante con Lui. Chiediamo il dono della santità, perché più cresciamo nell'amore, nella santità, più possiamo contemplare e vivere questa esperienza della comunione incessante con Dio. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria, regina della pace e della famiglia, prega per noi, per il mondo intero. Maria, tu sei la vita verde, sei la speranza, la gioia, l'amore. Tu sei, Maria, tu sai quello che vuoi. Sai con che forza d'amore in cielo, mi porterai. Maria, ti do, mio cuore per sempre se vuoi. Tu dammi l'amore che non passa mai. prima il tuo credito, cantiamo nel mondo insieme. La tua presenza sarà voce di paradiso per l'umanità. Salve, regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esili figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine, Maria. Signore, pietà, Cristo, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà, Cristo, ascoltaci, Cristo, esaudiscici, Cristo, esaudiscici, Padre del Cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, madre della Divina Grazia, prega per noi, madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre Sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre Degna d'Amore, prega per noi, Madre Ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi, specchio della santità divina, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, causa della nostra letizia, prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi, tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi, dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi, rosa mistica, prega per noi, torre di Davide, prega per noi, torre d'avorio, prega per noi, casa d'oro, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei veri cristiani, prega per noi, regina delle vergini, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato originale, prega per noi, regina assunta in cielo regina del santo rosario regina della famiglia regina della pace agnello di dio che togli i peccati del mondo agnello di dio che togli i peccati del mondo prega per noi santa madre di dio e saremo degni delle promesse di cristo preghiamo concedi ai tuoi fedeli signore dio nostro di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloria per la gloriosa intercessione di maria santissima sempre vergine salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine per cristo nostro signore adesso signore vogliamo fare una preghiera speciale per il santo padre padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà comincialo così in terra dacci oggi nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi limitiamo i nostri debitori non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ave maria piena di grazie al signore con te tu sei la benedetta tra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amén gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amén ecco un saluto di cuore da me giugorie vi portiamo alle nostre preghiere e ecco chiediamo proprio al signore in questo tempo di sofferenza di fatica di pandemia di difficoltà di custodire la preghiera incessante del cuore e di rivestirci dell'armatura di dio per sconfiggere i dardi infuocati che il maligno continua a scagliare contro l'umanità ecco chiediamo il dono di vivere nell'amore nella santità che è l'arma vincente contro le difficoltà della vita le persecuzioni le sofferenze ecco il mondo ha bisogno di santi chiediamo questa grazia per tutti buona serata ecco per intercessione di maria vi benedica dio onnipotente padre figlio e spirito santo amén bella va che sale dal cielo colore strano i muri bianchi di nazare parte un bagliore dal cielo un raggio divino entrando in casa parla maria io sono un angelo non devi aver paura mi manda il tuo signore dio maria danzando tu hai detto sì e la tua danza ci mi salvo e mentre tu danzavi per così grande amore e mentre tu nasceva un cuore maria danzando tu hai detto sì e la tua danza ci mi salvo mi salvo a